Nuovo appuntamento dell'Isola di Pietro 3 questa sera su canale 5, vai non da una nuova puntata. Isola di Pietro 3, la fiction di successo che ha come protagonista Gianni Morandi. E che il ragazzo di Monghi d'oro ha un figlio che sta muovendo i primi passi nel. Mondo della musica Trapper. Si chiama Pietro e anche se col padre ci sono molte differenze. In realtà hanno delle cose in comune e dal viso gli somiglia moltissimo. Amolo più da vicino. Pietro Morandi. Pietro Morandi, in arte Pietro 13, è un 22enne ed è. Nato dal secondo matrimonio di Gianni con l'attuale moglie Anna Dan. Il ragazzo ha altri tre fratelli, Marco, Marianna e Serena, nati dalla relazione con la prima consorte Laura Fricchian. Della vita provata del giovane rapper si sa poco e niente, ma osservando attentamente il. Suo profilo Instagram, si intuisce che è un grande appassionato di musica. Musica totalmente differente da quella a cui fa parte il padre. Come accennato prima, infatti, Pietro da poco è entrato nella carriera musicale dei rapper, ispirandosi. O a dei beniamini che fanno parte di quel circuito. Per fortuna del ragazzo di Monghi d'Oro, a differenza di altri trapper, il quarto genito non ha nessun tatuaggio e piercing. Il look del 22enne è nerd, ovvero acqua e sapone. Tuttavia ha un carattere abbastanza forte e non ci sta di essere catalogato al figlio di E. Dopo la foto, Gianni Morandi e il figlio Pietro ha la musica di Pietro Morandi dopo aver svolto numerosi lavori. Nostro paese è Londra, Pietro Morandi è riuscito finalmente ad aprirsi un barco negli ambienti della musica trap. Suo primo brano che lo ha fatto conoscere al grande pubblico attraverso il suo canale YouTube, è Pizza e Fichi del 2018. Successivamente il figlio di Gianni Morandi ha pubblicato anche Piccolo Pietro, Passaporto e Enrique Morty. Andasse farebbe mai un duetto col padre, il 22enne ha risposto così. Non farei. Mai un featurim con mio padre, non mi piacerebbe, gli voglio bene e sono orgoglioso di. Ma la sua musica è di altri tempi, oggi sono io il Morandi giusto. E per add rêve, non mi piacerebbe, gli voglio bene e sono gli buggeriotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.